Posto al sole, le anticipazioni. Nelle puntate in onda dal 12 al 16 dicembre vedremo che Michele farà un'interessante proposta a Silvia e a Rossella riguardo alle vacanze natalizie. Riguardo a Marina vorrebbe trascorrere le vacanze natalizie a Londra in compagnia della famiglia, ma Alice non è affatto d'accordo. La giovane vuole rimanere a Napoli anche perché in questa settimana sembra esserci un avvicinamento con Nunzio, il quale è rimasto molto deluso dal comportamento di Chiara. Bianca ha capito che dietro alla challenge si nasconde Antonello. Vuole che il ragazzino si assuma le sue responsabilità, ma in questo coinvolgerà Bianca. Nico, Giulia, Franco, Angela, tutti i poggi, cominciano ad essere preoccupati per la bambina. La figlia di Franco si è messa in una situazione più grande di lei.